Ciao da Apsim, guardate queste sono quelle partite che a un certo punto dici che faccio cambio canale, poi ci ripensi e dici che faccio cambio canale, no sul serio sono qui a parlare di questo Inter Fiorentina 2 a 1 solo perché avevo preso l'impegno con voi nella community, nella programmazione di questa giornata e sui miei social e poi perché chiaramente gioca l'Inter, vince e che fai? Non parli dell'Inter che adesso ha vinto come se non avessi parlato già dell'Inter quando ha vinto giocando male, quando ha vinto giocando bene e quando non ha vinto giocando bene o male che sia, no sono qui a parlarne appunto per rispetto verso di voi ma è stata una partita veramente poco poco gradevole, poco gradevole per chi non è tifoso delle due squadre ovviamente e per chi non aveva nessun interesse specifico, me che avesse vinto l'Inter alla Fiorentina cambiava veramente zero, mi sarei semplicemente aspettato una partita giocata a ritmi superiori, una partita con maggiore intensità ma soprattutto con più occasioni da gol perché ce ne sono state veramente poche, il primo tempo soprattutto è stato molto scialbo, il primo tempo è stato molto vuoto, il primo tempo è stato quasi soporifero, veramente pochissime situazioni interessanti sui rispettivi fronti d'attacco, certo va detto che probabilmente è stato anche merito delle difese insomma le squadre si sono anche un pochino annullate, hanno giocato praticamente a specchio a livello tattico, ancora meglio quando Iachini ha inserito Cutrone che poi anche questo volevo capire ma perché non metterlo prima, magari non era in perfette condizioni fisiche ma a me è parso evidente che la Fiorentina avesse un'enorme difficoltà nell'occupazione dello spazio offensivo cioè non riusciva a salire con una quantità di uomini tale da mettere in pericolo veramente la difesa dell'Inter che d'altra parte è bravissima come squadra e come difesa a stare bassa e a chiudere gli spazi quindi se questi spazi non li aggredisci neppure che cosa puoi mai riuscire a creare? Vlaovic sinceramente si è divorato un gol che non era proprio fatto però se tardi a calciare, questo nel secondo tempo e hai Andanovic davanti e fai lo scavetto ma come pensi di poter segnare? Quindi devo dire la Fiorentina ci è andata male nel senso ha affrontato male la partita, forse non è stata neanche preparata benissimo poi è chiaro che non è facile preparare le partite contro l'Inter perché o corri oppure ti metti dietro e chiudi comunque gli spazi perché poi sono molto bravi l'Inter è molto brava sia ad andare in ripartenza sia a giocare velocemente negli spazi stretti con triangolazioni 1-2 Lautaro molto ispirato stasera sarà anche perché sa che salterà le prossime due partite di campionato e quindi voleva rifarsi davanti al suo pubblico, davanti al suo allenatore e in generale con la sua squadra e l'ha fatto benissimo, poi che dire a un certo punto sembrava diventato Eriksen Channel questo Rai 1 perché i telecronisti hanno cominciato ad elogiare Christian Eriksen in maniera forse un pochino eccessiva e voi sapete che io Eriksen lo volevo alla Juve quindi non mi si può dire eh ma adesso lo stai sminuendo no per me è fortissimo però in una telecronaca di una partita in cui c'è una squadra italiana e un'altra squadra italiana un po' di rispetto cioè non è che bisogna necessariamente esprimersi così ampiamente sui complimenti ad Eriksen che poi tra l'altro è un singolo giocatore e ha fatto un discreto ingresso in campo ma nulla di più ingresso in campo ce lo siamo anche perso perché ovviamente la Rai quando c'è una sostituzione deve andare in mini spot ed è così da sempre e ci perdiamo tutti gli ingressi in campo dei giocatori che solitamente non sono molto interessanti ma in questo caso sì perché il primo piede il primo passo di Christian Eriksen nel calcio italiano non l'ha visto nessuno l'hanno visto solo allo stadio in tv non l'ha visto nessuno e insomma veramente almeno una volta si poteva saltare capisco le esigenze commerciali pubblicitarie ma non capisco perché alla Rai bisogna solo alla Rai bisogna fare questo genere di cose per quanto riguarda il resto ripeto l'Inter sicuramente ha giocato bene ma non ha avuto la necessità di giocare più di tanto bene perché veramente la Fiorentina non ha creato grossi pericoli buono il gol di Caceres su corner ma è stata una fiammata è stata sostanzialmente una fiammata non che la Fiorentina avesse così tanto meritato di fare soprattutto il pareggio un gol forse l'ha meritato un gol probabilmente l'ha meritato la Fiorentina ma non era una partita da pareggio era chiaramente una partita in cui meritava di vincere l'Inter qualche tiro finito fuori di poco anche da parte dell'Inter un bellissimo gol di Barella ecco anche lì il gol di Barella è bellissimo è un gol bellissimo io l'ho visto e ho detto bello ma non è difficile perché hanno cominciato a dire che ha fatto un gol con una coordinazione mica Zidane nel 2002 col Bayer Leverkusen cioè aveva il pallone che gli arrivava dritto l'ha calciato di drop e la palla chiaramente è andata in porto non aveva opposizione davanti è bravissimo è stato bravissimo ma non era tutta questa difficoltà era più bello che difficile sto gol però purtroppo bisogna dire le cose che fa piacere sentire perché altrimenti non si riescono a dire le cose in maniera equilibrata vabbè ci provo io e non so se ci sto riuscendo cos'altro dire quindi ci sarà ovviamente Inter-Napoli come semifinale di Coppa Italia ma ripeto non è stata una partita tanto entusiasmante da poter sottolineare qualcosa in particolare l'ingresso di Eriksen tra l'altro conferma che evidentemente Conte vuole in qualche modo provare a cambiare modulo ma in realtà l'ha già cambiato all'inizio della partita perché era un 3-4-1-2 contro appunto un 3-5-2 della Fiorentina magari un po' mobile un po' variabile e questo è interessante perché si vedrà appunto che cosa ne verrà fuori può darsi anche che Eriksen andrà a giocare nel 3-5-2 facendo però la mezza punta o la seconda punta quindi insomma il trequartista la seconda punta dietro Lukaku perché ci sarà appunto l'assenza di Lautaro per queste prossime due partite di campionato e vedremo perché questo spunto tattico sicuramente interessante molto bene ha giocato credo anche Ashley Young che effettivamente sembra molto in forma d'altra parte è un giocatore esperto che quindi sa gestire il suo fisico piccola menzione ma non sto qui a parlarne più di tanto perché ripeto era una partita da vittoria dell'Inter secondo me c'era rigore per la Fiorentina perché alla fine quando l'arbitro ha fischiato fallo in attacco della Fiorentina su Ranocchia e Cazares ha protestato c'è uno strattore di Godin abbastanza palese su Cazares uno strattore che inizia prima in area di rigore ma prima del fallo su Ranocchia quindi lì bisognava intervenire da parte dell'arbitro poi il Varno interviene perché se l'arbitro ha visto quel contatto e l'ha valutato non falloso il Varno interviene però tecnicamente secondo me era calcio di rigore per la Fiorentina immeritato perché non era da pareggio assolutamente ripeto però siccome poi se fosse stato per la Juventus chissà quante ne avrebbero dette io ci tengo lievemente lievemente sommessamente a sottolinearlo credo che a questo punto Antonio Conte può rompere il silenzio stampa e tornare a parlare davanti ai microfoni perché ha vinto e non può lamentarsi dell'arbitro buon per lui buon per i giornalisti che ritrovano quindi diciamo rispetto da parte dell'allenatore leccese dei Nerazzurri mi fermo qui non ho altro non ho nient'altro da dire quindi vi ringrazio per la visione e per i vostri commenti nello spazio qui sotto mettete like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche ci vediamo molto presto e sempre forza Juve Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie.